Vabbè che hit, YouTube doveva darmi il bottone d'oro e al posto che dare il mio mi ha dato quello di un altro tizio, incredibile, che ridere raga Siamo in studio, c'è Lorenzo Suraci che registrerà un intro nel nostro disco Siamo ancora in studio Ci stiamo tagliando i capelli in casa Così, a caso La gente mi suggeriva che stiamo facendo finta di tagliare i capelli perché in realtà non volevo tagliarli Quindi facciamo finta E infatti abbiamo finito di tagliarci i capelli e sono più o meno uguali al primo Il bottone d'oro per il mio milione di iscritti e al posto che darmi quello del mio canale me ne ha dato uno di un altro Grande YouTube C'è Lorenzo Suraci che sta registrando un intro per il nostro disco Raga sto volando Siamo qui e ci tagliamo i capelli in casa Senza motivo Grazie 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 Grazie